è facile avere dei pregiudizi su valerio ma basta conoscerlo per capire che è speciale valerio è leale e sincero e sa affrontare gli ostacoli con coraggio e determinazione è vero che spesso è diverso dagli altri ragazzi ma vale la pena scoprire perché valerio ha delle doti caratteriali speciali presente attento alle esigenze della persona che ha di fronte ha raggiunto il clamore quando ha salvato la bambina che stava negando a Stabaudia la mia figlia è stata vittima di un episodio di cyberbullismo la prima assegnazione del titolo di poliziotta d'onorem va a valerio catoia a Stabaudia